Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale Il tutorial di oggi è un tutorial fatto apposta per i ritardatari quelli che si riducono all'ultimo minuto Oggi infatti realizzeremo un calendario dell'avvento super facile e super veloce Come potete vedere io ho già appeso il mio calendario dell'avvento E poi vi spiegherò perché l'ho appeso proprio qui nella mia craft room Ma vediamo prima i dettagli Ossia per realizzarlo ho semplicemente utilizzato delle buste e dei fogli da lettera E delle etichette adesive Per la grafica ho utilizzato un'immagine trovata su Pinterest Basterà scrivere su Pinterest calendario dell'avvento da stampare O diciamo parole simili e poi stamparla Io per la stampa ho utilizzato una carta adesiva Dei fogli di carta adesiva Ma voi potete anche semplicemente stamparli su un foglio o su un cartoncino E poi incollarli con la colla stick Visto che è tutto praticamente di carta All'interno potete mettere dei piccoli dolcetti E poi appenderli così come ho fatto io con le mollettine in legno Se invece non volete appendere i dolcetti Ma volete fare un calendario dell'avvento un po' più creativo All'interno potrete mettere dei bigliettini con scritto delle frasi Delle attività da svolgere in questi 24 giorni O come me che ho realizzato un calendario dell'avvento creativo Delle attività, dei tutorial Delle miei video di TikTok e le storie di Instagram Approfitto allora a questo punto per dirvi di seguirmi sui miei canali social Che sono Facebook Instagram E TikTok Vi ricordo del mio shop online www.usolemani.com Dove troverete tutte le mie creazioni e tantissimo materiale per creare E nel caso in cui non riuscite a trovare su Pinterest o su Google le immagini Iscrivetevi pure su uno dei miei canali social E vi manderò gratuitamente ovviamente il PDF Prima di augurarvi buon tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale con la campanella Per essere sempre aggiornati di quando caricherò un nuovo video Spostiamoci al piano da lavoro e buon tutorial Eccoci qui Allora io avevo tante bustine Vedete? Delle semplici bustine Ne avevo tantissime di colori diversi E ho pensato appunto di usare queste bustine per utilizzarle in qualche modo Allora io ho acquistato una confezione con Mi sembra intorno alle 30 bustine che ho usato per altri progetti L'ho pagata un euro ed usciva bustina Di questa dimensione che era praticamente Che è praticamente 14x9 Con il foglio Ovviamente adesso ho preso soltanto le bustine Si possono utilizzare anche i fogli per fare magari un calendario dell'avvento Con dei bigliettini a sorpresa dentro E l'ho pagata un euro Ma li vendono anche singolarmente Quindi potete anche acquistarli tutti rossi O tutti verdi Insomma come volete Al costo di circa 10 centesimi in cartoleria Quindi veramente con 2,40 euro Moltiplicando appunto per le 24 bustine Con una spesa minima Otterrete veramente un bel risultato Quindi questa è la prima parte Prendere queste bustine Nella seconda parte Ho scaricato da Pinterest Questo carino Questo layout molto carino Dove appunto Ci sono già tutti C'è già la grafica impostata E tutti i numeretti L'ho scaricato da Pinterest Basterà semplicemente cercare Il calendario dell'avvento da stampare Quindi davvero molto semplice E l'ho stampata su una carta adesiva Quindi la prima cosa che faremo adesso È andare a ritagliare I miei 24 quadratini E l'ho stampata Ok Ovviamente io li ho scaricati da Pinterest Ma se non riuscite Cercando appunto come vi ho detto Potete benissimo scrivermi su Facebook O su Instagram E vi passerò assolutamente in maniera gratuita Questo perché l'ho scaricato da Pinterest Altra cosa che volevo dirvi Io ho stampato il layout Su una carta adesiva Si comprano Magari vi metto il link giù in descrizione Questi fogli di carta adesiva Ma siccome questo è un tutorial sprint E facilissimo da realizzare Potete semplicemente stamparlo Su un foglio di carta Un cartoncino E poi incollarlo con una semplice colla stick Tanto è tutta carta Ora che cosa facciamo? Niente di più semplice Se non prendere le nostre etichette E Pronte tutte le mie bustine A questo punto voi potete fare Quello che desiderate Ad esempio possiamo metterci Dei cioccolatini Delle caramelle E poi chiuderli con Un pezzettino di nastro adesivo Ma io ho deciso di farne una cosa molto creativa Ossia un calendario dell'avvento creativo Prenderò i fogliettini Delle mie buste E ci scriverò Un'attività creativa da fare Quindi seguitemi Mi raccomando su Instagram e TikTok Perché durante il periodo dell'avvento Dall'1 alla vigilia di Natale Realizzerò Una creazione Che inserirò All'interno di queste bustine Adesso scrivo i 24 bigliettini Dopodiché vi faccio vedere Dove metto queste bustine E poi ci vediamo per i saluti finali E poi ci vediamo per i saluti finali E allora Ecco fatto Eccolo pronto Il mio calendario dell'avvento creativo Mi raccomando Seguitemi sui canali social Così ogni giorno Svolgerò una delle attività Che ho inserito qui All'interno Delle mie bustine E se lo realizzate Mi raccomando Mandatemi le foto Che pubblicherò molto volentieri Sui miei canali Bene Se il video vi è piaciuto Ricordate di lasciarmi un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Con la campanella E ci vediamo alla prossima E ci vediamo alla prossima